Buongiorno a tutti, mi chiamo Tatiana Targher e sono la psicopedagogista di Mami. Vorrei raccontarvi come ho incontrato Mami, perché è stato un grande amore dal primo istante e l'ho incontrato proprio come tutte voi, come mamma. Sono giunta al Mami nel 2009 con la mia bambina Greta e ho trovato da subito l'ambiente, soprattutto relazionale, in cui sentirmi realmente a casa, in un ambiente dove poter essere accolta, compresa e supportata. Collaboro con Mami dal 2010 e mi occupo di genitorialità e mi occupo di accompagnare le famiglie, genitori, nel loro specifico stile genitoriale, nella crescita dei loro bambini. Il motto che orienta il mio lavoro e il mio pensiero in relazione alla famiglia è che ogni genitore è esattamente quello giusto per quel bambino, nelle sue parti migliori ma anche nelle sue fatiche. In questo lavoro ho scoperto via via che davvero in quella coppia relazionale genitore-bambino o genitori-bambini, in quella famiglia ci sono sempre tutte le risorse per ogni situazione. Vi aspetto durante i corsi e vi aspetto in tutte le iniziative Mami.